Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno agli amici di Social Podcasting. Sono Alessia Bronico e per Alma Poesia oggi leggerò alcuni versi di Fernando Lena tratti dalla raccolta Black Sicily edita per i tipi di arcipelago itaca nel 2020. Quarantunesima. Un centro recupero per lutto dipendenti. Pura follia? Qui, come negli alcolisti anonimi, la parola diventa una satanata, sofferenza da spurgare. Mara intanto ci racconta di come ha perso Elisa dopo uno stupro, il sangue, il suo respiro interrotto nel baccello materno. E io? Dovrei raccontare di come ho perso me stesso, guardando il cielo da un cortile al buio, mentre il pollice spingeva, l'instabilità di qualche dea, venuta a sussurrarmi che Marte è appena fuori dalla vena, appena dopo che togli l'ago, e la musica allinea i pianeti, con un prurito e un dire rauco disfatto dal silenzio. Social Podcasting. Your digital friends.